Stavo a Milano, mi occupavo di altro e non ho visto neanche la partita ieri sera Non c'ero, non c'ero e sono contento di non esserci stato perché credo, se devo essere sincero, che stiamo in una fase importante delle universiadi stiamo in una fase importantissima della ristrutturazione dello Stadio San Paolo abbiamo superato tanti ostacoli, credo che il colore dei seggiolini sia un ostacolo superabile quindi, azzurro è bello, azzurro come una giornata come questa, azzurro mare, azzurro Napoli però credo che troveremo il modo, io non sono il più idoneo perché sono daltonico però troveremo sicuramente il modo per trovare una quadra Ma non sarò io a decidere il colore